Buon salve, bentornati su No Mamamazzo. Oggi parliamo ancora un pochino di Flash e di tutto quello che sta succedendo con gli attori che lo interpretano. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace, di commentare il video con quello che ne pensate di Flash e di tutto questo magico mondo, di condividere il video con tutte le persone che conoscete e di attivare la campanella delle notifiche per ricevere le notifiche sui prossimi video. Ora parliamo di Flash. Non è un segreto che in questi giorni Ezra Miller sia sbroccato per qualche ragione e abbia aggredito fisicamente una sua fan, prendendola per il collo e sbattendo la terra quando stavano mimando una serie, una specie di, non lo so, rissa finta. Probabilmente Ezra Miller l'ha presa sul serio e ha pensato di atterrare una donna sconosciuta perché probabilmente è più stupido di quello che sembra l'attore e quindi molto probabilmente a causa di questo motivo l'attore che interpretava, che interpreta Flash nel DC Extended Universe, che ha già perso Enrico Avila, ha già perso Ben Affleck, molto probabilmente lascerà il ruolo, non per sua scelta, ma perché probabilmente la Warner Bros. non vorrà più lavorare con questo attore. Un'altra tristissima notizia per quanto riguarda il mondo dell'Hurroverse, il mondo dei telefilm della CW, l'attore che interpretava Barry Allen quando era piccolo, quindi nei flashback, nelle prime stagioni, l'attore Logan Williams purtroppo è deceduto in questi giorni. aveva solo 16 anni, non si sa bene cosa sia successo, non so se la cosa sia legata alla pandemia che ci sta appestando, però fatto sta che un attore così giovane, che un ragazzo così giovane a 16 anni se ne sia già andato, con grande dispiacere ovviamente di tutta la troupe di Flash. La notizia è stata divulgata proprio da Grant Gustin sul suo profilo Instagram. Ma al di là di queste note dolenti, io volevo già fare un video sugli attori che fanno parte, che hanno fatto parte della serie TV The Flash di questi anni, che però per qualche ragione hanno lasciato lo show. Non mi riferisco ai personaggi, ma proprio agli attori. Ovviamente non è un segreto che la CW metta sul piatto dei loro show un sacco di personaggi, a tal punto che non riescano più a contenerli nei loro serial, e addirittura hanno dovuto creare un serial apposta, ovvero Legends of Tomorrow, che racchiudesse un po' tutti quegli eroi che non ci stavano più nelle loro serie TV. E infatti io non voglio parlare di questi attori che sono andati in Legends of Tomorrow, ma degli attori che hanno proprio lasciato tutto questo mondo. Al numero 4, il personaggio di Jessie Quick. Jessie Quick è interpretata da Violet Bean, questa bellissima attrice che nello show era la figlia dell'Harrison Wells di Terra 2. Per qualche ragione lei è stata una dei personaggi ricorrenti, quindi non è mai stata una regular, è stata una dei personaggi ricorrenti nella stagione 2, è stata una velocista, una speedster ancora prima di Wally West, però non è mai entrata pienamente nello show. È un vero peccato perché sarebbe stata una trama interessante, specie per il fatto che aveva un'alieson d'amore con Wally West, però purtroppo poi alla fine non se n'è più fatto nulla, si è lasciata con Wally perché appartenevano a due terre diverse, bla bla bla. L'attrice è finita per qualche periodo su Legends of Tomorrow, come appunto stavo dicendo prima, però anche lì non sta più recitando. A quanto pare non c'è una scelta dell'attrice, semplicemente hanno smesso di usare il personaggio. È un vero peccato, è un vero peccato perché sarebbe stato bellissimo vederla interagire con gli altri velocisti di questo multiverso, anche se riconosco che avere troppi velocisti potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema perché così tanto potere potrebbe risolvere i problemi di ogni singolo episodio magari troppo in fretta. È un vero peccato perché è un'attrice che mi piaceva molto, sia come personaggio, sia perché l'attrice in sé è davvero bella. Non come il prossimo personaggio, che per quanto sia interpretato da un'attrice altrettanto attraente ai miei occhi, è davvero un personaggio fastidiosissimo. Sto parlando di Nora West Allen. Jessica Parker Kennedy è un'attrice, ve lo dico se magari già voi non lo sapeste, che è nata nell'84, quindi è molto più vecchia dell'attore Grant Gustin che interpreta il suo padre, seppur del passato, ed è anche più vecchia dell'attrice che interpreta sua madre Iris West, che è Candice Patton. E fin lì nulla di grave perché comunque viene dal futuro Iris West Allen, ma più che altro perché interpreta un adolescente, una ragazzina credo di 16 anni. Perché hanno scelto di far interpretare una ragazzina a un personaggio così adulto? Molto probabilmente hanno avuto la stessa pensata che gli studios di Harry Potter hanno avuto con Mirtilla Malcontenta. Se facciamo interpretare una ragazza di 16 anni che viene dal futuro e che quindi se va avanti e indietro tra il futuro e il presente non dovrebbe crescere più di tanto, cerchiamo un'attrice giovane che nel frattempo invece può invecchiare, rischiamo che diventi troppo vecchia per il personaggio che deve interpretare. Se invece scegliamo un'attrice già adulta ma che può benissimo con la sua fisionomia, la sua fisicità, interpretare un adolescente, sappiamo per certo che per 10-20 anni dovrebbe mantenere questo aspetto. Purtroppo per i suoi fan Iris West Allen è durata solo una stagione, ovvero durata nella quinta stagione di Flash, per poi svanire dall'esistenza. A quanto pare anche questo era già programmato dalla trama, però è un vero peccato perché si potevano davvero sviluppare delle vicende interessanti con questo personaggio, seppure questo personaggio era davvero antipatico. Almeno al mio personale giudizio, questo suo continuo ragnarsi, senza neanche parlare di quello che stava tramando alle spalle del padre, era fastidiosissimo. E mi sarebbe piaciuto che continuasse quantomeno per sistemare questo suo lato antipatico. So che molta gente, per esempio, non ama il personaggio di Iris West, invece a me non dispiace assolutamente. Mi dava invece molto fastidio il personaggio di Nora West Allen. Al secondo posto abbiamo Wally West. Kenan Lonsdale è l'attore che ha interpretato Wally West dalla seconda stagione di The Flash. nella seconda stagione non era un velocista, acquisisce i suoi poteri dalla terza stagione in poi, ma già nella quarta stagione se ne va. Se ne va per finire anche lui per qualche puntata in Legends of Tomorrow, per poi non vedersi più nemmeno lì. Cosa è successo? Non è apparso nemmeno nel Mega Crossover Crisi sulle Terre Infinite, Crossover dove nella sua controparte fumettistica invece aveva un ruolo fondamentale Wally West, anche più fondamentale di Barry Allen, eppure non c'è stato verso di averlo. Si è visto in un solo episodio della sesta stagione di Flash, che però davvero, come ho detto in un altro video, non sta andando a parare da nessuna parte. E la ragione è perché proprio l'attore stesso sta ritrovando se stesso, sta scoprendo un lato di sé che non conosceva quando faceva l'attore, ha capito che comunque recitare non è la sua strada principale nella vita, nonostante abbia fatto anche un film che parla di una storia d'amore omosessuale, che lo ha aiutato anche a scoprire se stesso, perché si è dichiarato apertamente, ha fatto coming out come queer. Queer è un termine che le persone che non vogliono che la propria sessualità sia da incastonare in qualche etichetta usano per se stesse, quindi queer non significa nulla di particolare, ma non significa neanche nulla di incastonato e fisso in un'etichetta. Quindi non si sa se è omosessuale, se è pansessuale, se è bisessuale, se è eterosessuale, probabilmente eterosessuale non lo è, però fatto sta che quando ha scoperto o ha fatto coming out di questo suo lato di sé, come il personaggio di Wally West nella sesta stagione, pare che sia diventato una nuova persona, quindi molto più introspettiva, e quindi anche per questo ha lasciato l'interpretazione regolare del personaggio di Wally West. Non per questo si sono chiusi i rapporti con la CW, tant'è che è tornato per un episodio della sesta stagione, ma le sue apparizioni molto probabilmente saranno sempre così fugaci, quindi lo vedremo per pochissimi episodi e molto probabilmente non per forza quando ce ne sarà bisogno, ma quando magari l'attore si renderà disponibile. È un vero peccato perché Wally West è uno dei personaggi più importanti del team Flash, anche a livello fumettistico, ed è un vero peccato che non ci sia spazio per lui nel team Flash, quando c'è spazio magari per Elongated Man, che per quanto io ami il personaggio, avrebbe avuto molto più senso avere lui in Legends of Tomorrow che non Wally, che è un velocista, che è il secondo velocista più importante dopo Barry Hall. E al primo posto, rullo di tamburi, abbiamo Alchemy, Alchemy interpretato da Tom Felton, ovvero il Draco Malfoy della saga di Harry Potter, che sembrava essere il Big Bad, sembrava essere il villain principale della terza stagione di Flash, quando invece poi si è scoperto che era solo un lacché controllato dalla divinità Hindu Savitar, il primo velocista, per creare un suo culto, ma non aveva davvero intenzioni cattive, a parte che era telefonatissimo che Alchemy potesse essere il personaggio interpretato da Tom Felton, tant'è che usava la pietra filosofale, un chiaro riferimento anche al primo film di Harry Potter. Poi però, appunto, una volta che viene liberato dai poteri di Savitar, dal controllo mentale di Savitar, e questo personaggio, si unisce al team Flash, impara anche a essere meno scortese con il team Flash e pare quasi che stia nascendo una storia d'amore con Caitlyn Snow. Eppure tutto questo, dall'inizio della quarta stagione, finisce nel dimenticatoio. Nessuno nemmeno nomina più Albert, ma cosa è successo? Dove è andato a finire? Semplicemente, la risposta è solo una. Tom Felton, che appunto ha interpretato Draco Malfoy nella saga di Harry Potter, è un attore che costa troppo alla produzione. Quindi la produzione, proprio perché il personaggio non era fondamentale alla trama, ha deciso di eliminarlo. Quindi, purtroppo, non vedremo più il personaggio di Alchemy, interpretato da Tom Felton, per il vile denaro. È un vero peccato, perché adesso che su Italia 1 stanno riproponendo la terza stagione, mi piaceva vedere questa storia d'amore tra il personaggio di Tom Felton e il personaggio, diciamo, di Caitlyn Snow. Peccato, peccato, peccato. Fatemi sapere qual è la vostra trama di tutte queste stagioni di Flash che più vi dispiace che abbiano abbandonato, perché ce ne sono diverse che hanno abbandonato. Scrivetemelo nei commenti, così poi ne parliamo insieme. Io non perdonerò mai il fatto che abbiano sfruttato pochissimo l'Harrison Wells di Terra 2 e che a ogni stagione abbiano aggiunto un nuovo Harrison Wells. È davvero fastidioso. Per quanto sia fantastico vedere le doti attoriali dell'interprete di questo personaggio, avrei preferito di gran lunga che avessero tenuto Harrison Wells di Terra 2 con Jesse Quick nei paraggi, ma non c'è stato. Peccato. Con questo, come sempre, è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi seguito fino a fine del video. Come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e arrivederci a più tardi al prossimo video. Grazie a tutti.